la mugna si può sapere che è successo l'uomo lupo sono peloso dracula io sono dracula chi li siamo silenzio frank devi trasformare questa nonna in una vampira solo se è infelice funzionerà babayaga ti aiuterà con un incantesimo ho il sospetto che stiamo assistendo a una vera magia ciao sono il faraone immo tepp sei johnny tepp il paracadute è da rapolliti quando saranno di nuovo felici torneranno umani monster family dal 19 ottobre al cinema